io voglio sapere che cos'è questo cos'è cos'è raga cos'è non parte mai ho rotto pure tutto anche la webcam è rotta raga cos'è questa storia cioè vedete la roccia lì in fondo quella dovrebbe essere quella di lost temple ma ambientata in spingo round ragazzi ma perché stumble è un gioco rotto questa che parte dovrebbe essere quella parte quella lì del poi sono tutti fermi non sto capendo io sono spettatore ma mi so qualificato raga e poi invisibili siete tutti oh che cosa sta io sono lì io sono lì che non faccio niente scusa se io sono io non posso essere spettatore di me stesso che sono da quella parte guardate sono lì ragazzi io è ripartita lì cos'è raga che cos'è sono spettatore di me stesso ragazzi cos'è eliminato su cosa cos'era e mi sa che fa quella cosa lì strana quella del precedente video quella la che non mi dà delle recompense è buggato stumble ragazzi stumble guys è buggato come gioco cioè cioè ragazzi io non so cosa sia successo cioè se è buggato di nuovo stumble guys come l'altra volta come stumble guys è rotto è un gioco rotto parte 1 ma faccio stumble guys gioco rotto parte 2 che cos'era quella cosa di prima ragazzi che cos'è poi aggiornamenti 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 e poi rompete tutto poi si rompe tutto fixati bug leggete in l'ultima scritta bug fixes e improvvament va bene non avrò detto niente in inglese bug sistemati giustissimo stumble giustissimo li hai sistemati tutti si è rotto tutto avete avete visto tutti questa è una prova concreta ragazzi shorts video era solo per farvi vedere che si bugga sempre stumble ci vediamo in un prossimo video e domani pubblico il guinness world record da nico tutto out